C'è un positivo ricoverato al reparto di malattie infettive dell'ospedale Sant'Elia, è un migrante sbarcato dalla nave Sea-Watch, si attende il tampone di un altro migrante. Non si registrano casi di contagio da Covid-19 per i nisseni da 12 giorni e 6 giorni in tutta la provincia. I positivi in quarantena domiciliare sono 4, di cui uno a Caltanissetta, uno a Gela, uno a Niscemi e uno a San Cataldro. L'altro ricoverato nel reparto di malattie infettive è all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela. Sono 173 i pazienti guariti, l'ultimo lo scorso 24 pile, sono 13 nel nisseno i decessi, di cui due fuori provincia. La terapia intensiva Covid è chiusa dallo scorso 3 maggio, data di dimissione dell'ultimo paziente. I casi di positività in tutta la provincia sono 194 dall'inizio della pandemia.